L'edizione 2024 del celebre Carnevale di Fornesiga in Val di Zoldo ha visto una grandissima affluenza di persone. Tanti visitatori, come in quest'ultima edizione, a memoria storica difficilmente se ne sono visti in passato. La gara di scultura dei Volti Lignei, che quest'anno aveva come tema il cambiamento climatico, ha viste esposte le maschere già da sabato 27 gennaio. Per tutta la settimana nella sala dell'ex latteria i visitatori hanno potuto esprimere il loro voto come giuria popolare, domenica 4 febbraio, dopo la Santa Messa, è iniziato il programma principale della festa con l'apertura degli stand gastronomici a base di prodotti locali come il gelato artigianale e i dolci tipici. A fronte della latteria si trovavano gli stand di scultura degli artisti locali Pompeo De Pellegrini e Merino Mattiuzzi. Durante il pomeriggio il centro di Fornesiga si è riempito di visitatori. Per le vie del pittoresco borgo si è svolto il tradizionale corteo di maschere tipiche dell'area dolomitica come la gnaga che dà il nome alla manifestazione si tratta di una vecchia che porta in spalla un bambino dentro a una gerla. Poi c'è il terribile uomo dei boschi chiamato l'omselvarec o ancora il vario pinto simpatico e bizzarro Matazzin, una sorta di arlecchino che caratterizza anche il carnevale del comelico. Alle 17 infine si è svolta la premiazione delle maschere più belle tenendo in considerazione tanto i voti della giuria popolare tanto i giudizi degli esperti, i vari artisti e disegnatori. Premiati sono stati Rosanna Precipe dall'Alpago, Marco De Rocco da Zoldo, Andrea De Benedette da Marsiai e Gianni Maraga da Belluno. Un sentito ringraziamento è andato all'associazione di Fornesiga e al Piodex Zoldan che si impegna nell'organizzazione e nella gestione degli eventi del caratteristico Borgo.